Pesaro resta ancora in zona rossa, così alcuni commercianti d'abbigliamento si sono dovuti reinventare. Restano comunque aperti, ma hanno cambiato il loro modo di lavorare. Disposti a tutto pur di non chiudere, ecco il nuovo modo di lavorare in zona rossa. Qualche commerciante d'abbigliamento del centro storico di Pesaro si è già attrezzato. Presenza fisica all'interno del negozio, ma senza far entrare nessuno ovviamente, il decreto lo vieta. In mano però è il telefono sempre a disposizione per videochiamare i clienti direttamente dal negozio e mostrare loro i prodotti, per poi eventualmente spedirli a domicilio. Un tour virtuale, oltre che un nuovo modo di comunicare, che in tempi di Covid può aiutare molto nelle vendite. Siamo presenti nei negozi dalle 10 alle 12 della mattina e dalle 16 alle 18 nel pomeriggio, proprio perché se qualche cliente è stata pubblicizzata questa cosa anche sui social o ai nostri clienti tramite Whatsapp, diamo la possibilità di fare una chiamata, una video call diciamo, che con il telefono facciamo vedere comunque il nostro prodotto, se loro hanno interesse tramite le foto che vedono sui social, come è già successo, poi eventualmente gliela consegno a domicilio. La speranza per i commercianti è ovviamente quella di riaprire subito dopo Pasqua, intanto tra la promozione sui social e le consegne a domicilio, ognuno cerca di arrangiarsi come può. Stiamo lavoricchiando con i pochi passanti, con il telefono e con Facebook e Instagram, comunque abbiamo la possibilità di consegnare anche gli articoli non vendibili al pubblico, cerchiamo di resistere ancora. Bisogna un pochettino reinventarsi per non morire prima dei altri, insomma. La speranza adesso è quella di riaprire dopo Pasqua? Noi speriamo di essere in zona arancione, assolutamente, in modo di avere tutto aperto senza contingentare gli articoli non vendibili, sperare nel passaggio di più persone, della scuola che riapre, i genitori che non stanno a casa con i bambini, possono di nuovo venire in centro, sperando di continuare a lavorare.